sono grandi molto grandi e sono costosi molto costosi sono i motorhome più lussuosi presenti al caravan salon di dusseldorf sono i luxuri motorhome che tutti sognano ma che pochi possono permettersi di acquistare grande empire è la nuova stella che brilla nel firmamento morelo è il veicolo più costoso della prestigiosa casa tedesca il prezzo arriva a superare i 650 mila euro inclusa una dotazione davvero superlativa morelo grande empire offre tanto spazio ovvio che sia così è un design d'eccellenza ma soprattutto una qualità al di sopra di ogni critica è costruito su specifiche richieste del cliente questo grande motorhome a tre assi della belga cruiser 12 metri di lunghessa 3 slide out laterali meccanica mercedes benz actros 684 mila euro il prezzo con gli accessori davvero di buon gusto l'interno di questo motorhome l´s tx e il faithful edition one 815.000 euro comprensivi di accessori di rito, meccanica Mercedes-Benz Actros, tre assi 12 metri di lunghezza, quattro slade out laterali. 1.450.000 euro, è il veicolo più costoso esposto al Caravan Salon Tour Supervisor, è il Barrio Perfect 1200 Platinum, 12 metri di lunghezza, 26 tonnellate di massa complessiva. Lo spazio interno di questo grande motorhome è davvero notevole e trae giovamento dalla presenza di tre slide out. L'abitacolo è su due livelli, per salire nella camera da letto posteriore occorre fare alcuni radini in modo tale da far spazio al garage sottostante. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.